Calcio d'angolo, deviazione del portiere siciliano sulla bandierina Massorocco Giovanni E' tutto pronto, le attaccanti del Cosenza si schierano Ancora Cordasco, prova Glantinolete! Non fa niente per tutta la gara Inesistente per tutto il match Ma regala il gol della bandiera alla squadra giallorossa Incredibile Una palla, una rete Non ha fatto niente per tutta la partita